Con Attilio del Serre, un volto un po' più sorridente, meno tirato rispetto a quello che era ieri mattina a Roccaverena. Ancora forse no, ancora un po' di tensione c'è dentro. C'è una tensione bella lunga da settimane. Abbiamo vinto, abbiamo visto una classifica migliorata, ci siamo salvate, abbiamo raggiunto l'obiettivo che era stato fatto, indicato inizio stagione. Secondo me è con grande merito, per un semplice motivo, che su 42 partite siamo stati in zona play-out solamente 3 partite. E quindi penso che nel contesto in cui abbiamo lavorato abbiamo raggiunto un buon obiettivo. Momenti più duri o più difficili che l'ha stato? Momenti difficili ce ne sono stati tantissimi. Poi avremo occasione di fare disamine sul campionato, mentre magari un pochino più serena, più tranquilla, con tante cose davanti. Momenti difficili durante il campionato ci sono sempre. Abbiamo avuto treni di difficoltà. Una squadra non siamo mai riusciti a dare continuità di risultati. Abbiamo fatto prestazioni molto buone, prestazioni brutte. E quindi non siamo mai riusciti a dare quella grande continuità che serve per poter far bene. Quindi chiaramente trovandoci in zona play-out proprio nella parte finale del campionato. Ripeto, dopo, ho fatto un campionato sempre sopra. Sicuramente è stata la parte più difficile. Senti, ieri mattina Rocca Porena sembrava un po' orientato sul 3-5-2, invece che stasera la sorpresa. 4-3-1-2. Ma no, l'avevo provato tutta la settimana scorsa. I primi giorni della settimana. Ieri ho riprovato il 5-3-2 perché la squadra era un po' tesa e avevo visto che era un po' in difficoltà. Quindi da sicurezza. Stamani ho fatto la rifinitura, ho visto che erano belli, tranquilli. A me l'hanno fatta bene e quindi ho deciso per quello che doveva essere l'obiettivo della squadra vincere. Si può vincere in tutti i modi, ma un segnale che io volevo dare a loro era di fiducia, di forza, di una squadra che si giocava la partita per vincere senza dire che, ripeto, si può vincere in tutte le maniere. Però era un segnale anche a loro. Una buona partita complicata. Vorrei dire che ci si è in mezzo anche Giove Pluvio a complicare un po' la faccenda. Direi di sì, nel limite del campo ho zuppato d'acqua che ho anche tenuto bene, però sopra c'era acqua, la palla non viaggiava con buona qualità. A parte i primi minuti abbiamo fatto un po' fatica, poi diremo che da quando abbiamo iniziato a salire in cadere abbiamo avuto del pallegol, il portiere ha fatto delle parate incredibili. Tutto sommato abbiamo anche fatto bene, abbiamo trovato spesso l'uomo tra le linee, che fosse un centrocampista all'interno, Gavazzi e soprattutto Falletti. E da lì abbiamo creato un po' di situazioni importanti, sviluppando nel limite del possibile anche secondo me un buon calcio. Secondo gol, un'azione direi manuale, un gran pallone di Avenatti e una buona conclusione di Bocinov. Sì, sì, ha stato bravo Filippo a pescarlo, ha fatto il rifinitore che gli piace far quello, lo ha fatto bene, l'altro con sua qualità tecnica ha colpito bene la palla, abbastanza bene, ha preso il portiere in controtempo e ha fatto un bel gol. Una cosa? La sostituzione di Falletti per dare maggiore forza in fase di copertura? Duplice. Lì è andato Davide, Gavazzi, che lì si può esprimere benissimo, con qualità leggermente diverse rispetto a Falletti, ma con una potenza quando attacca gli spazi devastante. E quindi andava bene, Falletti era molto stanco, non rientrava più, non dava più una mano in mezzo al campo, tant'è vero che in quel momento loro avevano preso un pochino il possesso del centro campo. Quindi con l'inserimento di Russo, che mi garantisce una copertura sicuramente migliore, gli ho chiesto di stare lì più bloccato e far andare Davide, che sulle accelerazioni, sui spazi che loro poi ci hanno anche concesso maggiormente, poteva essere un giocatore più, Falletti aveva fatto molto bene fino a quel momento, ma ero cinque minuti che non riusciva più a rientrare, a dare il contributo in mezzo al campo su Blasi, che era appena entrato, andava a coprirmi il basso loro. L'ultima cosa, futuro di Tesser? Ma va bene, io penso che stasera sia stata l'ultima partita, io non ho mai parlato con la società, vedremo, ripeto, due giorni e poi... Perché è stanco anche lei, vuole dire? Sì, sono molto stanco, questo è evidente, due anni in trincera, due anni con l'obiettivo della salvezza, io sono stato non bene, benissimo qui a Terni, sono felice di questa esperienza, spero di averla onorata al meglio, la maglia, per me è stato un onore indossare questa, e basta, ho fatto solo tutto questo con grande serietà, grande impegno, cercando con il mio staff di mettersi nella nostra professionalità, tutto qui. Quindi al di là di quello che sarà la decisione della società, Tesser ha già deciso? No, io ripeto che la società non ci ho mai parlato, diciamo che è adesso un momento un po' di stanchezza, vediamo, vediamo, il fatto non solo società, ripeto, non ho mai parlato con nessuno, né oggi che ci siamo saldati, ma tantomeno quando andavamo bene, che spesso gli allenatori vanno a chiedere, io non vado mai a caccia di stipendi, vado a caccia di chi ti vuole, chi crede in te, chi ha fiducia, e quindi dove c'è questo te servà, i soldi sono l'ultima cosa, non mi è interessata mai, avrei potuto farla in certi momenti, e non mi interessa nulla, adesso staremo, staremo e godiamoci per stasera, poi fra due o tre giorni vedremo, ma penso che... Bene, grazie mille, complimenti, e...